Sì, è fantastico. Io adoro le sorprese. Sul serio? Accidenti o no? Di solito sono sempre peggiori. Ciao. Ciao. FDR, che cosa... Scusa, Tuck, lui è un mio amico. FDR, FDR ti presento, Tuck. Salve, piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Potete scusarmi un secondo? Devo andare a... Devo... Ci metto un minuto. Un secondo. Dunque tu non hai né la grazia né l'umiltà di perdere da uomo, non è vero? Dove vai, eh? Dove vai? Sì, puoi farcela. Sei una donna sicura di sé che sa gestire il conflitto. Adesso sbaglio. Torna da loro e comunica la decisione. Sono ragionevole. Potrebbero anche diventare amici. Si stringeranno la mano. Ho avuto questa cosa fra i denti tutto il tempo. e non mi piace. E' la tua madre. E' la tua madre. E' la tua madre. E' la tua madre. Grazie.